E bello a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Allora ragazzi oggi con Atomist in total pink come non l'avete mai vista Ma siamo qui ragazzi con un video bomba Anzi facciamo così mi correggo un video da 20 bombe su Fortnite in arena in solo Quindi ragazzi prima di cominciare con il video vi invito da subito a lasciare un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto E inoltre vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Viola Quindi se volete passare anche solo per un saluto sapete che a me ovviamente fa piacere Il mio canale lo trovate qui in descrizione come tutti i miei social Ma adesso ragazzi non vediamoci in chiacchiere perché vi assicuro che c'è poco da parlare ma tanto da guardare Quindi raga buona visione Grazie per la coroncina Grazie per la coroncina Grazie per la coroncina Grazie per la coroncina Non spari più? Non spari più zio Non spari più Stato tutto ok Ti ho visto un po' confuso nei momenti in cui ti ho boxato e cappellato Non ho capito sinceramente cosa intendesse Cosa volesse fare onestamente Era un po' confuso il Vets Devo dire la verità Era un po' confuso Ci sta comunque a avere nei momenti un po' di sbandamento Baby che fai Non mi devi rompere il cazzo mentre fate un altro Ok? Cioè Gesù bambino Dovete impararvi A fare gli affari vostri Se sto fai dando con un tizio Che mi è scappato peraltro A uno di vita Non mi dovete rompere le palle Guarda ti vengo a prendere Oh Vedi? Vedi cosa succede quando rompi il cazzo? Ora Dobbiamo andare a cercare quello là che mi è scappato Era la skin della Balenciaga Me lo ricordo benissimo E lui? È fredda? No mi scappa Non riesco a prendere Ho volato troppo Ho fatto il volo troppo basso Edita Non riesco a prendere Ah Non imparano mai The never fucking learn Posso petarlo? Grazie Oh Ok Che quello che mi rompiamo Ah Eccolo qui Piccolo Chicco di riso Come sei carino Spera che ti vengo a prendere Dovete imparare Che quando uno spara Con un altro player Non mi dovete mettere lì A rompere il cazzo Ancora Ancora Sto per tirare Veramente tante madonna Ti giuro ragazzo Per tiltare Prima spari Poi ti puscio E poi scappi Spiegami La logica Di questa Di questa mossa Di marketing Ho incappellato Comunque la Volevi ripaddare No Poverino Volevo fare Volevo usare il pad Ma per caso Te l'ho rincappellato Di nuovo Dai Su Fra Cioè Però manca Fa così Nel senso Vedo che potrei fare 20 bombe Se effettivamente Li trovo tutti e 5 E riesco ovviamente Ad ammazzarli Devo riuscire ad ammazzarli Potrei anche morire prima Non ho detto che io vinca il game Oh fight No Non vi dovete ammazzare Tito Tito Ok Bravo Dove stare sul tetto Come un coglione Ok Devo fare ottenere il heal ragazzi Due kill ragazzi e faccio 20 bombe Due cazzo di kill e faccio 20 bombe Eccolo 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 Ragazzi 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 manca l'ultimo player Last man standing Last man standing Last man standing Paluto ok Povero gambiano Vai per tutta la compagna Buono 20 kill game Si vola con 20 bombe In arena In solo Bene ragazzi Una bella partitozza portata a casuccia Proprio Proprio nel gran chilling GG GG raga 20 bombe Bene ragazzi siamo giunti alla fine di questo video E ovviamente spero che vi sia piaciuto E se così dovesse essere mi raccomando Spolliciate questo video per supportarmi Abbiamo fatto appunto 20 bombe perfettamente precise Proprio tonde 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 Quindi raga solo per questo Tanti pollicioni in su Detto ciò ragazzi Ovviamente per questo video adesso è tutto Noi chiaramente ci vediamo in un prossimo video Dalla vostra creata Viste tutto Bella a tutti ragazzi Viste tutto Viste tutto Viste tutto Alla prossimo Viste tutto